Stavamo bene, praticamente noi lì non ce ne accorgevamo neanche che c'era la guerra, perché il paese era a distanza di cento e più chilometri da Roma, perciò noi stavamo tranquillamente, poi essendo il paese di mia mamma, lì c'era la mamma di mia mamma, ossia mia nonna, c'erano le mie zie, i cugini, perciò oltretutto stavamo bene perché eravamo riuniti, non c'era solo mio padre che stava a Roma al lavoro, se no tutto sommato, anzi era bello perché facciamo passeggiate in mezzo al paese, la sera c'erano le lucciole, quelle piccole cose che c'erano allora, che adesso non esistono, però guarda va sicuro, era un bel vivere, tranquillo, non c'eravamo nient'altro, però ce lo siamo godute in un certo senso la gioventù. Grazie a tutti.